Io vengo proprio perché invitata da un'amica. Penso anche per i miei figli che quello è quello che spero che incontrino, qualcuno che li aiuti a camminare verso il destino, veramente. Io sono venuta dopo tanti anni per far giocare i bambini, per fargli vedere qualcosa di bello. Perché ci sono un sacco di cose interessanti e tanti amici. E per un bene, un'amicizia che vedo che si rinnova ogni anno, un abbraccio di bene che vedo sulla mia vita. È un luogo edificante, sia per i più grandi sia per i più piccoli. Volevo mostrare la bellezza ai miei figli per la prima volta. Io spesso ho fatto la volontaria al meeting quando ero in università. È un modo in cui ho di contribuire a quest'opera del meeting che penso sia molto interessante per me, per la mia vita e anche come modo di incontro per tanti altri. L'amicizia è una compagnia nella vita veramente grande. È avere delle persone con cui camminare. L'essenza della vita, dal punto di vista del motore almeno. È un'apertura verso l'altro, è un rapporto che ti fa uscire dal tuo punto di vista e ti apre qualcosa di più. Davvero, la possibilità di sentirsi liberi insieme a un'altra persona. Senza gli amici non avremmo lo stesso gusto del vivere. Veniamo da un sacco di anni, ci hanno portato all'inizio i nostri genitori e per noi è una bellissima esperienza. Volevamo portare per la prima volta la nostra figlia. Non fa in tempo fare due passi che è bello anche incontrare amici che non vedi mai e che è sempre l'occasione per trovare a incontrarli. Anche quando pensi di non avere amici, misteriosamente ti arriva qualcuno con cui diventi amico. Un amico è colui con cui cammino insieme, con cui cerchiamo qualcosa insieme. C'è amicizie che sono importantissime anche al di là della frequentazione ma che passano per il cuore. E quindi l'amico è colui con cui condividi il cuore. Grazie.